Ciao, io mi chiamo Alessandro Grima, sono un attore professionista che si è diplomato in Paolo Grassi nel 2012 all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. L'ho detto per precisare, non si sa mai. Comunque, dopo l'Accademia mi sono specializzato sempre di più nel realismo psicologico, facendo diversi corsi in Francia, in Svizzera, con una realtà che si chiama Fuoco alla Paglia. Dopodiché ho aperto una scuola di recitazione con la mia compagnia, si chiamano I Viandanti Teatranti, la scuola di recitazione è a Bustar Sizio in provincia di Varese e abbiamo allievi che vanno dai 5 anni fino agli over 65, arriviamo fino agli 85 anni, quindi ce n'è per tutta l'età. Ho con loro prodotto, recitato, diretto anche da regista, diverse produzioni teatrali, con I Viandanti Teatranti, anche se faccio teatro però con diverse realtà di tutte le zone del Nord Italia, quindi sia della Lombardia ma anche del Piemonte, del Veneto, e lavoro parecchio in queste zone. Che altro dire, mi sono specializzato sempre di più nel ramo del realismo psicologico perché adoro poter fare cinema, cioè quindi arrivare a pensare come pensa il personaggio. Lavoro in maniera maniacale, da nerd quasi, appunto nel pensiero di un'altra persona, di un altro essere vivente. E questa cosa mi affascina, mi stimola e mi dà anche una bella sfida da affrontare. Amo il cinema, appunto, adoro il teatro, amo le donne, le venero, e amo anche il calcio e il fantacalcio, anche se sono sempre ultimo. E vabbè, capita. Che altro dire? Niente, questo sono io, ho 33 anni, ecco, questa cosa non l'ho detta, ho 33 anni. Queste sono le mie mani e questa è la mia faccia. A parte gli scherzi. Questo sono io, mi presento e quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Buona giornata! Buona giornata!